No, campione, campione, ole ole ole, grazie ragazzi, grazie, i tuoi colori sventolono, i brividi vi vengono, forza grande rubale, grazie capitale, mamma mia ragazzi, mamma mia, abbiamo vinto la conference, ti cazzi della partita, quanto è finita, come abbiamo giocato, chi se ne frega, chi se ne frega, abbiamo vinto la conference, tra l'altro c'è una mezza invasione qui, mamma mia, che bello sfondo, mamma mia ragazzi, mamma mia, mamma mia, una sofferenza inaudita, Abbasso un po' perché se no non si capisce niente, una sofferenza inaudita, una sofferenza inaudita, ma stiamo sempre parlando di una finale, di una finale ragazzi, non potevamo aspettarci di certo, una vittoria agevole, poi non sarebbe stata da Roma oggettivamente, le vittorie da Roma sono quelle sofferte, già le vittorie da Roma esistono poche, sono poche, poi vincerla con una sofferenza inaudita, mamma mia ragazzi, bellissimo, c'è un'invasione incredibile a Tirana, pazzesco capitano, pazzesco, te la meriti tutta, ce la meritiamo tutti, ce la meritiamo tutti, stanno scrivendo il nome nostro, stanno scrivendo il nome AS Roma ragazzi, siamo nella storia, siamo nella storia, Roma ha vinto, bello Mancini, non so, come si fa a parlare della partita ragazzi, come si fa a parlare della partita, siamo stati, abbiamo fatto una delle partite difensive più belle mai fatte quest'anno, difensivamente perfetto, i bagnezz, oggi non hai bagnezzato, è stato perfetto dall'inizio alla fine, Smalling bisogna fare una statua, Rui Patricio bisogna fare una statua, Rui Pasticcio tutto l'anno, e questa è la risposta, le critiche a Zagnolo e segna Zagnolo, che sicuramente vincerà l'MVP, io mi sto pisciando sotto ragazzi, mamma mia che bello, che bello ragazzi, che bello, Tirana è invasa di giallorosso, sono tutti in campo, guardate che spettava a Roma, c'è un'invasione a Roma pazzesca, sono tutti in campo ragazzi, sono tutti in campo, quanto ce lo meritiamo, quanto ce lo meritiamo, quanto ce lo meritiamo, questo trofeo era dal 2008 che non vincevamo un trofeo, ce lo meritiamo tutto, anni e anni ad arrivare secondi, con record di punti, poi se ci vai a pensare, magari quelle squadre nostre lì, in queste annate di questi campionati avrebbero vinto tranquillamente i campionati, ma questo, perché questa è la Roma ragazzi, questa è la Roma, questa è la Roma, questa è la Roma, sono felicissimo, solo felicissimo e bellissimo, tra l'altro l'invasione non era a Tirana, era all'Olimpico, perché a Tirana fortunatamente c'è tutto ancora in ordine, al Mancini, grandissima partita dei tre centrali ragazzi, Mancini leggermente meno, ma Ibanez e Smalling perfetti oggi, perfetti, Rui Patricio perfetto, Ibanez perfetto, Smalling perfetto, il capitano era con la lingua di fuori, abbiamo giocato quattro giorni fa, eravamo stanchissimi e abbiamo retto 45 minuti in sofferenza, Spinazzola è entrato da Dio, da Dio, vera e tu, è entrato benissimo, Sergio Oliveira quando ha sostituito Mkhitaryan è entrato benissimo, abbiamo avuto un bugio di culo quanto una casa, perché hanno preso due pali, ma schi se ne frega io godo, queste per tutte le banane razziste che avete portato allo stadio per sfottere e insultare Abraham, queste per tutte le pisciate che avete fatto contro il nostro autobus, queste per la barcaccia, queste per tutta quella merda che siete olandesi, perché questo siete, perché avete aizzato la guerriglia fuori dagli stadi in questi giorni, questo vi meritate, questo vi meritate, per un giorno Dio ci ha ascoltato, il Dio del calcio è romanista, il Dio del calcio è romanista, questa deve essere solo la partenza, cari Fridgi guardate cosa cazzo siamo, fate qualcosa sul mercato che sta squadra e sta città merita di restare sempre su, sempre su, l'anno prossimo dobbiamo sicuramente tornare in Champions, non me ne frega niente, poi si vedrà, ma sto cazzo di trofeo ce lo meritiamo tutto, José io ti voglio bene, ti voglio bene, il primo allenatore nella storia, vince tutte e tre le competizioni europee, non ha mai perso una cazzo di finale, è stata più forte, è stata più forte la tendenza di Murigno a vincere le finali che la nostra, a non giocare, a cagarci sotto, sta partita senza Murigno ne avremmo prese non so quante, perché abbiamo fatto una concentrazione difensiva paurosa, paurosa, gente stanca, gente con gli infortuni, Karsdorp rotto che corre, io non so cosa dirvi ragazzi, è anche sto signore qui che è stato insultato dalla mattina alla sera, grazie Tiagone, facciamo un gran mercato, facciamo un gran mercato perché sta città se lo merita, sempre Forza Roma, io vado a festeggiare, vado a pisciare perché mi sto pisciando sotto, e vado a godermi sta premiazione perché ce la meritiamo tutta, Forza Roma!